Buonasera a tutti, buonasera da Giuseanceschi, anch'io seguo Radio Palermo Napoli di Franco Alfano di Milano, un bacione a tutti i radioascoltatori, un bacione al maestro Toni Gambino e un bacione a Franco Alfano, presto sarò anche in diretta su Radio Palermo Napoli, un bacio da Giuseanceschi, a presto, seguitemi!